Si chiama Testiamoci per l'epatite C ed è l'invito che la Regione Toscana rivolge ai cittadini di età compresa fra i 34 e i 54 anni. Un gesto importante a tutela della salute della comunità e anche quella personale. È una malattia infettiva particolarmente grave però per cui da poco esiste una cura efficace che permette di interrompere la catena del contagio. Se ci testiamo e facciamo una corretta terapia smettiamo di essere contagiosi e in questo modo impediamo che altre persone si possano ammalare. In Toscana ad oggi ancora purtroppo ci sono tante persone che sono affette da questa malattia, si parla di circa 30.000 persone. Pertanto un intervento che permetta di conoscere lo stato immunitario delle persone è estremamente importante. Tutti coloro che sono compresi nella fascia di età che riguarda questo screening hanno tempo fino al 31 dicembre per poter aderire, rispondendo al messaggio del Ministero della Salute o contattando le pubbliche assistenze. Basta avere una goccia di sangue, un ricevitore, il quale ci dice se siamo positivi o negativi. Da lì poi se siamo positivi dovremmo andare dai nostri medici di base e iniziare quella cura con dei prodotti che sono in via orale e quindi nel tempo di pochi mesi dovremmo aver risolto il problema. Il risultato al cittadino viene detto subito? Subito, viene rilasciato subito il risultato se è positivo o negativo.